Oggi, giovedì santo, mentre ci prepariamo a rivivere l'imminente passione di Cristo, vi è un mistero che spesso sfugge la nostra attenzione, la presenza degli angeli attorno al Santissimo Sacramento. In questo giorno, in cui il Salvatore istituì la Santa Eucharistia, lo stupore e l'adorazione dei fedeli si estende infatti oltre la dimensione umana, coinvolgendo le schiere angeliche custodi silenziosi e ardenti di Gesù Sacramentato. Perché, dal momento in cui Cristo promise di rimanere con noi fino alla fine del mondo, gli angeli, creature di pura adorazione, non possono che essere presenti in modo speciale presso tutti i tabernacoli della Terra, dove dimora il re dei re. È di questo che ti parlerò oggi. Buongiorno, mi chiamo Samuele Maniscalco, benvenuto nel canale, gli angeli sono con noi. Durante l'ultima cena, prima dell'agonia interiore nel Gezzemani, il figlio di Dio istituì la Santa Eucharistia, affinché egli, lo sposo, potesse rimanere per sempre con la sua sposa, la Chiesa. I vangeli narrano che, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Il Signore dà dunque se stesso, come aveva del resto preannunziato da tempo ai dodici, aggiungendo poi, fate questo in memoria di me. Con queste parole il Divino Maestro istituisce anche il sacerdozio cristiano che perpetuerà nei secoli futuri il suo sacrificio cruento nel sacrificio incruento della Santa Messa, celebrato ogni giorno ed in ogni angolo della Terra. Capisci perciò l'importanza fondamentale che riveste questo giorno per l'umanità intera. E quindi puoi capire anche con che fervente adorazione i Santi Angeli circondino l'ostia consacrata qui sulla Terra e, come in cielo, commemorino solennemente questo grande mistero. Diversi Santi ci parlano di una devozione eucaristica che si intreccia con la venerazione degli spiriti celesti. Ad esempio, San Pietro Giuliano Aymar, fondatore della Congregazione del Santissimo Sacramento, che aveva fatto dell'eucaristia lo scopo della sua missione e della sua vita. Lui dice così «La comunione è un banchetto, il convito nuziale dell'agnello. È un convito regale. Ivi gli angeli circondano il loro re». E aggiunge che, se potessimo vedere svelato il mistero dell'altare dopo la consacrazione, vedremmo gli angeli prostrati attoniti, quasi atterriti, allo spettacolo di tanto amore per creature indifferenti e ingrate. Queste creature indifferenti e ingrate siamo noi. Incapaci il più delle volte di una vera adorazione e di una comprensione profonda per quanto possibile di ciò che abbiamo davanti agli occhi. Non credi? Quante volte ti è capitato di distrarti davanti all'eucaristia o di non prestare la dovuta riverenza? Potresti obiettarmi, per gli angeli è naturale stare sempre alla presenza di Dio. Per noi, invece, è una sofferta conquista. È vero, gli angeli non sono insidiati da tentazioni e la loro contemplazione di Dio è pura gioia. Ma a noi non ci è stata forse data la grazia divina per sostenerci? Qual è la tua esperienza a questo riguardo? Se ti va, scrivimilo nei commenti e non dimenticare di mettere un mi piace a questo video. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, nelle sue ben note visite al Santissimo Sacramento, si rivolge così a Gesù. Dice Fa che io non desideri più né cerchi altra soddisfazione che farti piacere, visitandoti spesso nelle chiese, trattenendomi con te, ricevendoti nella santa comunione. Serafini i beati, non mi invidio per la gloria, ma per l'amore al vostro e mio Dio. Insegnatemi voi che cosa devo fare per amarlo e dargli gioia. Questa è un'ottima preghiera da fare davanti al tabernacolo. Fallo tutte le volte che ne avrai l'occasione, unendoti così al cuore angelico più alto nell'adorazione del Signore. Sono certo che ripetuta con insistenza e vera devozione ti porterà non pochi frutti spirituali. Come non ricordare poi le parole dell'angelo apparso ai postorelli di Fatima? Questo Spirito Celeste, prostratosi per terra dinanzi a un calice e a un'ostia sospesinaria, ripetè per tre volte la seguente orazione. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione dei oltraggi, sacrileggi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Anche questa, a maggior ragione perché pronunziata proprio da un angelo, è una preghiera che puoi fare. A mio modo di vedere è perfetta, completa, non manca di nulla. Ascolta adesso cosa ha da dirti Santa Margherita Maria Lacocque, la grande apostola del Sacro Cuore di Gesù, che aveva un grande rispetto e una grande fiducia nei Santi Angeli. In una lettera ad un padre gesuita scrive Mi sembra che il Sacro Cuore di Gesù desidererebbe si avesse una speciale unione e devozione ai Santi Angeli, che sono particolarmente destinati ad amarlo e onorarlo e lodarlo in questo divino sacramento di amore, perché uniti ed associati con loro, essi suppliscano per noi alla sua divina presenza sia per rendergli i nostri omaggi che per amarlo per noi e per tutti quelli che non lo amano e per riparare le irriberenze che noi commettiamo alla sua santa presenza. Qui vediamo come lo stesso Gesù desideri profondamente che gli uomini abbiano un'intima unione e devozione agli spiriti celesti. Quando ho letto questa lettera mi sono detto, caspita, è proprio lo scopo del canale, gli angeli sono con noi. È l'idea che sta alla base del gruppo Apostoli dei Santi Angeli, al quale ti invito calorosamente ad unirti in questo giorno così speciale. Si tratta di un gruppo specifico composto da persone che credono nell'importanza di attirare l'azione e la presenza dei Santi Angeli sulle loro famiglie e sulla società intera in un mondo sempre più preda del demonio. Ci sono sia benefici materiali che i membri ricevono a casa, come un certificato di appartenenza, stampe, medaglie, libri, eccetera, sia benefici spirituali, come diverse sante messe celebrate nel corso dell'anno secondo le intenzioni di tutti i membri. Si tratta di una santa messa a settimana per un anno intero. Inoltre, nel corso dell'anno, le tue intenzioni di preghiera saranno portate nei principali santuari cattolici del mondo, in special modo quelli legati a San Michele Arcangelo. Se non fai ancora parte di questo gruppo, clicca sul primo link che trovi in descrizione o nel primo commento in evidenza. Ti si aprirà una pagina dove troverai informazioni utili per sapere come entrarvi. In questo Giovedì Santo lasciati ispirare dalla devozione degli spiriti celesti per il Santissimo Sacramento. Visita Gesù Eucaristico, adoralo con cuore sincero e chiedi ai Santi Angeli di custodirti e di insegnarti ad amare Dio con la stessa intensità di cui loro sono capaci. Essi, custodi invisibili dell'Eucaristia, ti accompagnino nel tuo cammino di fede. Ascolta il silenzioso ma potente invito che ti stanno facendo e unisciti a loro nella contemplazione del corpo e sangue di Cristo presente in ogni tabernacolo del mondo. Condividi questo messaggio con i tuoi amici e familiari, invitandoli a scoprire la bellezza e la profondità del mistero eucaristico vissuto insieme agli angeli. Come sempre chiedo e prometto preghiere. Se il Signore vuole ci vediamo sabato. Che Dio ti benedica. 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 Grazie a tutti.